Pipsqueak e l'inquinamento Sul pianeta di Pipsqueak non c'è quasi più aria pulita Respirare è diventato difficile, bisogna assolutamente fare qualcosa Gli scarichi delle fabbriche e delle automobili inquinano l'atmosfera giorno e notte Mettere dei filtri a ciminiere e a tubi di scarico è una prima soluzione per risparmiare ossigeno e diminuire l'inquinamento Pipsqueak pensa, l'inquinamento è davvero orribile, cosa si può fare per rendere l'aria più respirabile? Trovato! Perché non viaggiare col treno e lasciare l'automobile alla stazione? Questo farebbe diminuire l'inquinamento E se abitiamo vicino alla stazione è meglio andare a piedi Una bella passeggiata ci farà senz'altro bene Pipsqueak sa che gli spray danneggiano l'atmosfera E così decide di usare solo quelli che non causano danni all'ambiente Prima di comprare un frigorifero o di mettere l'aria condizionata Si assicurerà che siano ecologici In una città dovrebbero esserci molti spazi verdi Rendono l'aria più pulita e sono l'ideale per fare belle passeggiate Gli alberi poi sono molto importanti perché ci procurano l'ossigeno per respirare Pipsqueak pensa che se tutto questo venisse realizzato Sarebbe più facile respirare e i nostri polmoni si manterrebbero più sani Meno automobili, più fabbriche ecologiche e più parchi Renderebbero migliore l'aria delle nostre città